benvenuti alla mia solita diretta del giovedì sera durante la quale potete farmi delle domande in chat io ovviamente risponderò in diretta permettetemi come al solito di ringraziare lo sponsor unico del mio canale youtube che è cripto refis vi consiglio di andare a vedere il loro sito vi ho messo il link in descrizione perché potete vedere tutto l'elenco dei siti di commerce e di negozi sui quali potete fare acquisti pagando in cripto in criptovalute utilizzando il servizio dei cripto refis cioè i buoni acquisto detto questo vi ricordo che potete sempre farmi le domande prima della diretta quindi quando volete via email l'indirizzo è info chioccio la marco cavicchioni punto it vi ho messo il link in descrizione perché poi quando io vado in diretta inizio a rispondere proprio dalle domande che mi avete mandato via email e infatti io ho già ricevuto tre domande e parto con quelle prima domanda nel ciclo psicologico di mercato secondo te in che fase ci troviamo tra sollievo e ottimismo tu cosa ne pensi allora in effetti sembrerebbe proprio che siamo in una fase in cui eh c'è stato sollievo perché il duemila e ventitré è stato un fortissimo recupero dal dalla paura del duemila e ventidue e forse stiamo anche entrando eh in una fase di ottimismo ehm forse ci siamo già anche entrati perché comunque quando il prezzo di bitcoin è andato di colpo sopra i trentacinque mila dollari e poi anche eh più in alto eh in quel momento c'era già abbastanza ottimismo se riesco a trovarvi il l'indice della paura ed entusiasmo vi faccio vedere quello che vi sto dicendo cioè eh il motivo eccolo qua l'ho trovato vi lo condivido eh eccolo qua allora qua praticamente potete vedere eh il crypto fear and greed index eh è l'indice della paura di entusiasmo in particolare in questo caso di bitcoin vedete che ad un certo punto cioè che scusate che è già da un mese che siamo nettamente in fase eh positiva ricordatevi che in questo indice zero significa estrema paura cento estremo entusiasmo cinquanta è neutro vedete che siamo sopra i cinquanta stiamo a prendere gli ultimi tre mesi vediamo chiaramente che eravamo più o meno attorno alla neutralità di colpo eh a fine ottobre quando il prezzo è salito eh è rimasto sopra i trentamila euro eh dollari è andato e balzato in zona entusiasmo quindi siamo già un mese che siamo in zona entusiasmo quindi forse già anche iniziata la fase ottimistica non ne sono proprio sicuro perché in questo momento a me non risulta che ci sia fomo cioè non risulta che la gente stia comprando giusto per comprare solo per perché spera che i prezzi salgano quindi non siamo ancora in pieno ottimismo ma probabilmente siamo eh in in zona quasi ottimismo il sollievo secondo me è già alle spalle vi faccio vedere anche un altro dato tal proposito che è piuttosto importante allora vediamo se riesco di nuovo a condividervelo eccolo qua questo è il grafico il classico grafico del prezzo di bitcoin eh su coin market cap a me quello che interessa in questo caso sono le barre grigie in fondo che sono i volumi se noi andiamo a prendere tutto gli ultimi dodici mesi scopriamo che ci sono stati fortissimi volumi a gennaio quando il prezzo è balzato dopo ha rimbalzato in maniera forte violenta dopo il bear market ci sono stati anche a marzo quando ci furono il i fallimenti delle banche americane e poi l'ulteriore rimbalzo sopra i 27 mila dollari da quando è andato a 27 mila dollari in poi i volumi sono stati sempre piuttosto contenuti guardate qua abbastanza bassi c'è stato giusto qualche picco quando si è saliti sopra i 30 mila dollari e si è balzati a quasi 35 mila e poi un altro picco qua quando si è andati a 37 mila solo due picchi i volumi nel loro complesso qua sono sicuramente maggiori rispetto a quelle di mesi precedenti ma ancora molto inferiori a quelle di inizio anno quindi a mio parere forse non siamo anzi sicuramente non siamo ancora in fase di fomo siamo in fase forse di preottimismo perché il sollievo ce lo siamo già passati le spalle tuttavia io ritengo che questi cicli cicli psicologici di mercato non facciano molto come dire non 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 vadano presi troppo alla lettera non facciano molto testo perché si spesso capita che dopo una fase di paura ci sia una fase di sollievo e poi una fase di ottimismo ma non è garantito quindi non è detto che se stiamo entrando in fase di ottimismo questo significa che il prezzo debba per forza di cose crescere non non lo sappiamo di preciso secondo domanda che differenza c'è tra l'exchange coin base che ha deciso di quotarsi in borsa mentre molti altri exchange binance bidget bidget ok ex preferiscono avere un loro token allora c'è una grossissima differenza perché quando una società va in borsa tipo coin base in borsa ci mette le azioni cioè la proprietà una certa quota di proprietà ok in questo momento alcuni dei proprietari di coin base cioè dei soci dei proprietari di azioni le hanno comprate online cioè in borsa ok non è sempre detto che quelle azioni diano diritto al voto in consiglio in scusate nell'assemblea dei soci comunque insomma eh praticamente si tratta comunque di una porzione di proprietà della società invece i token che vengono messi come bnb da da binance come quello di bidget come leo di bid phoenix eccetera eccetera non c'entrano niente con la proprietà non sono azioni non sono quote di proprietà dell'azienda non si sa bene nemmeno che valore abbiano che significato abbiano nel caso di binance si sa almeno che loro ogni tanto quando hanno degli utili una parte di utili li utilizzano per ricomprare dal mercato dei token bnb e bruciarli quindi si spera che a forza che l'exchange compri si riducano sempre di più questi token sul mercato e quindi il loro prezzo salga però non è mica detto eh invece il discorso è completamente diverso per le azioni perché se una società va bene performa bene il prezzo delle sue delle sue azioni aumenta è difficile immaginare che possa andare diversamente perché ci sono più persone che vogliono avere un pezzo di proprietà di quelle azioni ad esempio quando eh Elon Musk ha comprato Twitter ha comprato per l'appunto le azioni che c'erano in borsa non solo quelle che c'erano in borsa in quel caso le ha comprate tutte però le ha comprate e diventato proprietario questo non vale invece per i token degli exchange ci sono dei token degli exchange che funzionano anche in modo un po' diverso tipo leo di Bitfinex eh per cui è un po' difficile capire eh quale sia eh il suo valore come possa volverne nel tempo c'è però da dire che in genere i token degli exchange se l'exchange va bene eh salgono molto eh in particolare c'è proprio quello di BitGet che se non sbaglio ha fatto un notevole aumento quest'anno eh vi faccio vedere qua il dato perché ce l'ho sottomano eh eccolo qua guardate cosa ha fatto eh BitGet eh il token BGB del di BitGet eh ha esordito nel duemila e ventuno praticamente in eh durante l'anno della grande bull run nel duemila e ventuno non aveva fatto un gran che già nel duemila e ventidue era salito e poi il voto l'ha fatto nel duemila e ventitré siamo vicini ai massimi storici ok il massimo storico è stato registrato solamente il quattordici novembre pochi giorni fa a eh zero virgola cinquantotto dollari in questo momento è sotto eh al massimo solo del sette virgola sei per cento perché perché è un un exchange relativamente nuovo sta andando alla grande più l'exchange va e più il valore del token eh si alza attenzione comunque perché siamo vicini ai massimi storici eh quindi quando si è vicini ai massimi storici non si sa mai come vada eh a finire nel senso che poi magari può anche scendere quindi non c'è un legame proprio eh diretto eh concreto tra il valore del token new exchange e il successo di un exchange però eh in genere due cose vanno al pari passo basta vedere che quello che ha fatto BNB quest'anno che non è riuscito a salire più o meno alle stessi livelli di fine duemila e ventidue per tutti i problemi che ha avuto Binance. Terza domanda con il fatto che X integrerà un portafoglio crypto un wallet crypto nel duemila e ventiquattro eh dice in chi mi scrive io il vago sospetto che Doge pomperà alla grande. Cosa ne pensi? Ehm secondo me è possibile. Io non vi so dire se realmente eh Dogecoin avrà eh o meglio salirà di valore eh grazie al fatto che eh X l'ex Twitter possa integrare un wallet crypto. Eh mi spiego eh può darsi è perché Elon Musk ha sempre avuto a che fare con Dogecoin e quindi nel momento in cui dovessero integrare eh veramente il trading di criptovaluto è cosa che dovrebbe in effetti avvenire al duemila e quattro può darsi che Dogecoin eh ne risenta positivamente ma forse questo eh è un discorso che ho fatto anche per le altre principali criptovalute quelle che verranno integrate nel trading eh che si presume verrà inserito su X. Eh però attenzione se è da un lato è vero che probabilmente un po' tutte le criptovalute ne avranno un vantaggio forse Dogecoin potrebbe averne qualcuno in più ma non per il fatto che viene aggiunto un wallet cripto anche se non è detto è che venga aggiunto un wallet cripto su X verrà aggiunto il trading eh può darsi che eh lo facciano con un partner quindi magari semplicemente si userà un wallet che magari è integrato ma è di di un altro exchange non lo so comunque eh dicevo non è tanto questo probabilmente secondo me che avrà impatto su Dogecoin è che io mi aspetto che nel momento in cui si torni a parlare che Elon Musk torni a parlare di criptovalute perché magari ha inserito il trading cripto su eh su X eh torna a parlare soprattutto di Dogecoin non dimentichiamoci che il vero boom di Dogecoin è quello d'inizio 2021 quindi quello fino a maggio 2021 perché poi non lo ha più avuto ed ha avuto tutto a Elon Musk quindi sì io ritengo possibile che se Elon Musk ritorna a parlare di criptovalute torni a parlare anche magari proprio di Dogecoin e quindi potrebbe salire tra l'altro eh non so se lo sapete ma comunque eh c'è in programma il lancio di un satellite chiamato Doge un satellite lanciato da da SpaceX alla società di Elon Musk se non sbaglio è in programma proprio il lancio del 2024 a inizio 2024 quindi io sinceramente credo che Elon Musk ci torni su Dogecoin però attenzione ricordiamoci sempre che Dogecoin sale quando Elon Musk ne parla poi quando lui smette di parlare scende quindi fate molta attenzione eh insomma si tratta di movimenti puramente speculativi eh quindi fate attenzione perché potrebbe non essere eh necessariamente un buon investimento sul lungo periodo andiamo avanti passiamo alle domande che mi state facendo via chat allora partiamo con la prima non credi che l'approvazione degli ETF porterà Bitcoin ad una centralizzazione nelle mani dei potenti andando incontro all'esatto opposto a cui perciò a ciò per cui Bitcoin era nato allora eh sì nel senso che inevitabilmente gli ETF su Bitcoin spot ok perché gli ETF su Bitcoin ci sono già in realtà ci sono già anche gli ETF su Bitcoin spot in giro per il mondo ci sono in Svizzera sono ci sono non ci sono gli Stati Uniti d'America però ovviamente il mercato importante è quello degli Stati Uniti d'America gli ETF su Bitcoin spot sugli Stati Uniti d'America obbligano l'emittente a ritirare Bitcoin dal mercato e custodire anzi immobilizzarli eh come collaterale delle azioni del fondo gli ETF sono fondi eh immesse sui mercati quindi se facciamo un nome a caso BlackRock se BlackRock dovesse emettere moltissime azioni del suo ETF su Bitcoin inevitabilmente dovrebbe comprare molti Bitcoin e detenerli eh sul di sui propri wallet poi in realtà credo che utilizzi quelli di Coinbase ma comunque eh sì ci sarà una centralizzazione però attenzione non saranno Bitcoin posseduti dal gestore degli ETF perché in realtà il proprietà i proprietari del fondo cioè delle ETF saranno gli azionisti quindi eh sebbene la custodia sarà decentralizzata sarà centralizzata il la proprietà effettiva no perché non sarà BlackRock ad avere la proprietà eh dei Bitcoin e delle ETF che lancerà la proprietà sarà degli azionisti dei proprietari delle azioni delle ETF però BlackRock sarà custode quindi un po' di centralizzazione in più ci sarà sicuramente eh la centralizzazione è l'esatto posto a cui per a ciò per cui Bitcoin era nato vi dirò di più la decentralizzazione è il punto di forza maggiore di Bitcoin eh però attenzione questo non è che centralizza Bitcoin centralizza alcuni Bitcoin cioè alcuni token BTC ok quindi noi avremmo eh la maggior parte dei Bitcoin che continueranno a essere scambiati in modo decentralizzato o comunque essere utilizzati in modo decentralizzato e una parte che invece saranno centralizzati però noi abbiamo già MicroStrategy che ne ha tantissimi oggi di nuovo ne ha comprati altre per 600 milioni eh avremo Grayscale che ne ha tanti avremo gli exchange che ne hanno tanti Coinbase ne ha tanti Binance ne ha tanti avremo BlackRock che ne ha tanti quindi insomma si tratta di una forma di centralizzazione però non in un unico soggetto ed è un po' difficile che questi soggetti si mettano tutti d'accordo sì magari BlackRock e Coinbase però poi c'è Binance eh che è un concorrente di Coinbase c'è Grayscale che è un concorrente eh di BlackRock quindi il problema c'è ma a mio parere non è particolarmente rilevante non non possiamo dire che sia del tutto trascurabile ok esiste effettivamente però possiamo anche accettare un livello di decentralizzazione leggermente inferiore certo se MicroStrategy domani dovesse decidere vendere tutti i suoi Bitcoin il mercato ne risentirebbe però Bitcoin conterebbe andare avanti ok solo valerebbe il suo il suo valore andiamo avanti eh vediamo un po' ah questa invece è un'ipotesi più che una domanda rally di Natale allora attenzione ad una cosa eh ci sono eh in ballo tre ipotesi differenti la prima ipotesi è che dato che solitamente a fine anno molte delle persone che hanno Bitcoin e sono in guadagno non vengono perché aspettano a vendere l'anno nuovo in modo da eh rimandare di un anno il pagamento delle tasse sulle plus valenze allora il prezzo di Bitcoin posso continuare ad aumentare però attenzione prima cosa molto spesso negli anni positivi il prezzo il massimo annuale del prezzo di Bitcoin si è si è registrato proprio a fine anno spesso a novembre però sono stati pochi gli anni in cui si è registrato a dicembre c'è stato anche un anno in cui se non sbaglio è stato registrato il 31 di ottobre quindi io sarei un po' dubbioso sul fatto che ci sia un rally di Natale se alla base dell'aumento che c'è stato di Bitcoin ci fosse solo eh la giustificazione fiscale perché il prezzo è già salito molto a questo punto se sale ancora un po' qualcuno potrebbe dire ma sì pago le tasse un anno prima però ci guadagno e non aspetto che il prezzo poi magari scenda perché poi vendere a gennaio potrebbe anche voler dire vendere ad un prezzo minore e guadagnarci di meno però attenzione questa è solo una delle tre ipotesi quindi la prima ipotesi è che ci sia semplicemente il classico aumento di fine anno e attenzione però perché se fosse solo così allora il aumento di fine anno spesso c'è a novembre e poi a dicembre magari inizia a calare ma c'è poi anche la seconda ipotesi la seconda ipotesi ve la devo però far vedere perché è un pochettino più bisogna avere un grafico per 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 capirla bene l'ho postato su sul mio profilo x vediamo se lo trovo eccolo qua adesso vi condivido questo grafico eccolo allora guardate questo grafico sopra abbiamo l'andamento del prezzo di bitcoin dal 2014 al 2018 quindi non la scorsa bull run man quella ancora prima ok e questo è il 2016 ok quello di sotto è l'andamento del prezzo di bitcoin dal l'ultima grande bull run cioè dal 2021 fino oggi e questo è il 2023 come vedete ci sono fortissimi somiglianze tra il 2016 e il 2023 come vedete anche a fine 2016 il prezzo di bitcoin sfondò questa linea poi tornò su questa linea e poi nel 2017 ci fu la grande bull run seguente al all'alving ok ora noi potremmo anche essere una situazione simile vedete siamo in una situazione in cui il prezzo di bitcoin è salito sopra questa questa barra quindi se facesse come nel 2017 dovrebbe adesso scendere e poi risalire quindi la seconda ipotesi che c'è è che la salita di bitcoin potrebbe non essere finita cioè in altre parole che non è solo potrebbe non essere solo una questione che a fine anno il prezzo sale per ragioni fiscali e poi a gennaio scende ma potrebbe anche essere che il prezzo a gennaio torni a salire se fosse così non ci sarebbe un rally di natale cioè ci sarebbe ci potrebbe essere una discesa del prezzo di bitcoin ci sono alcuni che sostengono e secondo me è un'ipotesi anche abbastanza plausibile che il prezzo potrebbe anche scendere a 30.000 27.000 dollari per poi ripartire a gennaio cioè a inizio dell'anno prossimo e questa è la seconda ipotesi e poi c'è la terza ipotesi la terza ipotesi a dire il vero in questo momento a me pare non plausibile o meglio estremamente poco probabile ed è l'ipotesi che questo fine 2023 assomiglia a fine 2020 perché dovete sapere che fino a metà a novembre c'erano delle somiglianze tra fine 2023 fine 2020 adesso non ci sono più queste somiglianze vi dico questo perché perché a fine 2020 non solo ci fu rally di natale ma questo rally andò avanti fino a metà gennaio cioè il prezzo iniziò a salire a fine novembre salì a inizio dicembre salì a fine dicembre salì all'inizio di gennaio questa però è un'ipotesi che a mio parere in questo momento conviene scartare difficilmente siamo già in una bull run cioè a fine novembre 2020 era già iniziata l'ultima grande bull run adesso a mio parere non è ancora iniziata l'ultima grande bull run e a questo punto bisognerà capire come andrà a finire se per caso ne inizierà una a gennaio oppure no ovviamente c'è sempre anche una quarta ipotesi che però in realtà è la stessa della prima cioè la prima dice che è aumentato solo perché a fine anno ci sono ragioni fiscali ebbene dovete sapere che se fosse così sarebbe più o meno come nel 2019 quindi l'anno precedente all'ultimo halving che è stato nel 2020 il prossimo halving sarà l'anno prossimo 2024 se fosse così allora noi nel 2024 potremmo vedere un andamento simile a quello 2020 cioè una fondamentalmente uno stazionamento fino all'halving certo il 2020 ci fu il crollo di marzo dovuto inizio della pandemia però quello fu un cigno nero in realtà a febbraio 2020 il prezzo di bitcoin era 10.000 dollari e a maggio quando ci fu l'halving era 10.000 dollari quindi potremmo aspettarci una lateralizzazione e poi magari una bull run a fine anno secondo alcuni però se dovesse andare così cioè se dovessimo arrivare all'halving di aprile 2024 con una lateralizzazione può darsi che non ci arriveremmo con un prezzo di bitcoin a 35.000 dollari ma forse più a 40.000 dollari se fosse così ok se l'ipotesi è questa significa che probabilmente a dicembre il prezzo potrebbe scendere forse anche a gennaio e poi recuperare un pochettino a febbraio per poi puntare verso i 40.000 dollari a durate l'anno come avete capito ci sono tantissime ipotesi differenti c'è anche chi sostiene che il prezzo sia destinato a scendere e a tornare sotto i 30.000 e basta quindi è un po' difficile da capire se non altro abbiamo capito che non siamo in una situazione simile a quella di fine 2020 perché la situazione è diversa però potremmo essere in una situazione simile a quella di fine 2016 quindi andiamo a seguire quella questo scenario ovviamente io pubblicherò su x x.com slash cavicchioli tutte le informazioni per farvi capire per tenervi giornate se stiamo seguendo quel modello cioè fine 2016 oppure no oppure se siamo tipo fine 2019 altra domanda se io uso hard wallet lo smart contract malevolo succede solo quando si fa lo staking può capitare allora no purtroppo non è così nel senso che se io uso un hardware wallet ok e con un hardware wallet voglio utilizzare uno smart contract in realtà devo mettere i miei fondi sullo smart contract ok quindi lo smart contract è decentralizzato io posso ritirare i miei fondi in qualsiasi momento ma se lo smart contract funziona male o viene hackerato io perdo tutto o meglio posso perdere tutto tutto quindi dobbiamo distinguere due cose hard wallet e smart contract sono due cose differenti nel senso che avere i fondi su un hardware wallet significa averli su un indirizzo cioè custodirli su un indirizzo di cui solo voi detenete le chiavi private quindi nessuno ve li può portare via a meno che non riescano a scoprire le vostre chiavi private o il vostro sì mi raccomando fate attenzione se io invece i fondi li metto sullo smart contract ho fatto una transazione e i miei fondi li ho depositati sugli indirizzi dello smart contract che poi magari sono indirizzi miei cioè che controllo io però in realtà i fondi sono detenuti nello smart contract se lo smart contract funziona bene allora io non ho problemi posso ritirarli in qualsiasi momento ma se lo smart contract funziona male e non è come avere i fondi su un hard wallet perché se lo smart contract funziona male purtroppo se qualcuno ha accesso a appunto allo smart contract in modalità diciamo così di gestione o ci sono dei bacchi o delle backdoor i soldi possono essere prelevati i fondi possono essere prelevati senza il vostro permesso è già successo un sacco di volte quindi fate attenzione lo staking è ancora un'altra cosa allora esistono tre tipi di staking ok allora il primo è il più banale di tutti cioè io ho un mio nodo e metto i fondi in i token i staking sul mio nodo il mio nodo è un wallet non custodia quindi è come avere un hard wallet vabbè certo il nodo deve essere online deve essere ben protetto quindi non è un cold wallet come l'hard wallet ma è un not wallet però comunque in quel caso più o meno è la stessa cosa se nessuno ha le chiavi private il seed nessuno può entrare sul mio nodo a prendermi i fondi esistono però anche esiste anche la possibilità di fare staking senza dover avere un proprio nodo che quindi da mettendo i propri fondi in staking token in staking su altri nodi e qua esistono due possibilità il primo è lo staking come quello che offrono gli exchange c'è uno staking centralizzato voi date a tutti gli effetti i vostri fondi a un custode che poi li metterà in staking sul proprio nodo in quel caso se il custode sparisce insomma gli capita qualche cosa voi i vostri fondi potreste non vederli più però ci sono anche degli smart contract decentralizzati che consentono di fare staking ad esempio per ethereum c'è l'aido in quel caso lo smart contract è decentralizzato voi in teoria dovreste poter mettere i vostri fondi in staking e ritirarli in qualsiasi momento c'è una coda mi sembra però comunque in teoria si dovrebbe poter fare però in quel caso bisogna sperare che lo smart contract sia fatto bene per carità l'aido è fatto bene cioè gli smart contract molto utilizzati sono stati esaminati analizzati da un sacco di persone quindi se dovessero avere dei problemi si saprebbe quindi lo smart contract di l'aido dovrebbe essere funzionare perfettamente certo che però se invece vi scegliete un altro smart contract di cui non si sa bene la livello di sicurezza e il rischio di mettere i fondi in staking su uno smart contract è lo stesso di mettere i fondi su uno smart contract per qualsiasi altra ragione quindi fate attenzione la situazione è un po complessa bisogna andare a verificare un po caso per caso cosa dovremmo aspettarci dall'alvin di aprile 2024 in termini di prezzo di bitcoin e tenendo conto dei mille fattori coinvolti allora è un po difficile rispondere a questa domanda però possiamo almeno fare un paragone con il passato noi abbiamo avuto tre albino fino ad oggi ok 2012 2016 2020 quello del 2024 sarà il quarto tutte tre le volte che c'è stato un albino in passato l'anno dopo si è innescata una grande bull run però attenzione il prezzo dopo l'alvin dopo i tre albi non è aumentato sempre della stessa percentuale ad esempio durante il la prima grande bull run post albino il prezzo se non ricordo male è salito da 10 a 1100 dollari cioè ha fatto un per cento che davvero tanta tanta roba poi per carità era il 2013 pochissimi lo conoscevano e quindi insomma non è non è replicabile quel tipo di guadagni la volta dopo quindi dopo l'alvin nel 2016 ci fu una nuova bull era nel 2017 nel 2017 il prezzo di bitcoin dopo essere tornato a 1100 dollari perché nel 2015 era stato fino a 150 era sceso ebbene da 1100 è arrivato a 20.000 quindi ha fatto un per 20 quindi il dopo la il primo albing il prezzo di bitcoin ha fatto un per cento fino a nuovi massimi poi è sceso e dopo il secondo albing ha fatto un per 20 dai precedenti massimi che è cinque volte meno di per cento ok poi c'è stato l'alvin nel 2016 nel 2017 c'è stata una nuova bull run in realtà la bull run nel 2017 e studiate del 2021 è iniziata a fine 2020 perché a fine 2020 il prezzo era tornato a 20.000 dollari e il prezzo massimo è stato di 60.000 dollari 69.000 dollari cioè 70 e in poche parole ha fatto per 3,5 dopo l'ultimo albing quindi dopo il primo albing ha fatto per cento dopo il secondo albing per 20 dopo il terzo per 3,5 quindi non è che dobbiamo aspettarci probabilmente moltissimo dall'albing di aprile 2024 potremmo aspettarci una percentuale meglio un guadagno massimo probabilmente inferiore a 3,5 volte rispetto ai precedenti massimi però c'è da dire una cosa ovvero in realtà io sono convinto che nel 2020 il vero massimo che avrebbe dovuto raggiungere ma non ha raggiunto per le ragioni che adesso vi dirò non era 69 mila dollari ma era 100 mila dollari i famosi 100 mila dollari infatti nel 2020 il prezzo di bitcoin superò i 60 mila dollari già ad aprile anzi ad aprile nel 2021 andò a 64 mila dollari poi scese e poi a novembre andò solo a 69 mila dollari cioè gli mancò un pezzo tant'è che i massimi a novembre 2021 furono fatti mi sembra il 10 di novembre e non a fine novembre come più o meno avrebbe dovuto essere come al solito e questo perché perché nel 2021 è capitata una cosa importante a maggio è uscito il ban cinese che ha di fatto escluso i capitali cinesi il grosso dei capitali cinesi dalla seconda parte della bullera io sono dell'idea che se ci fossero stati capitali cinesi anche a novembre 2021 probabilmente il prezzo sarebbe andato a 100 mila dollari quindi io prenderei non so se prendere come riferimento 69 mila dollari o 100 mila dollari ok poi per carità va anche detto che è talmente telefonato questo albin talmente telefonata questa bull run che magari potrebbe anche non avvenire tenete presente che in genere i mercati tendono a scontare ciò che apprezzare ciò che accade quando già lo sanno ok quindi probabilmente l'albin di aprile è già apprezzato perché i mercati lo sanno ed è vero che siamo ancora molto in anticipo che quindi può darsi che venga ancora apprezzato un po di più che ne so febbraio marzo dell'anno prossimo però io non vorrei che siamo che 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 ci sia un po troppo aspettativa nei confronti di ciò che potrebbe accadere dopo l'albin questo è il motivo per cui a mio parere dobbiamo anche prendere in considerazione l'ipotesi che stavolta la bull run potrebbe non essere l'anno dopo l'albin ci potrebbero non essere nel 2025 ma nel 2024 potrebbe essere anticipata perché i mercati tendono sempre ad anticipare quindi questa cosa è da seguire in particolare in questo momento è da seguire l'ipotesi che 2000 fine 2023 possa essere simile a fine 2016 questo è il punto perché se fosse così noi potremmo avere una bull run già nel 2024 andiamo avanti allora sì sì come mi appaiono i commenti da facebook ok se solo che ovviamente compaiono su facebook e su youtube la tua strategia preferita per conservare la seat phrase allora io devo essere sincero sono un po vecchio stile d'altro non insomma non è che sono proprio un giovincello io direi che la cosa migliore conservarla in cassaforte quindi in cartaccio e possibilmente divisa in due cioè la seat phrase è solitamente fatta da 12 parole 24 parole facciamo 12 sei conservati in una cassaforte sei in un'altra così se si svaliggiano una cassaforte non hanno l'intero seat certo ovvio che il problema è che si svaliggiano una cassaforte vi portano via le sei parole voi però poi dalle altre sei non riuscite a recuperare quindi conviene avere un doppio backup quindi non conviene avere il sit conservato in un unico posto ok e non conviene averlo conservato per intero quindi converrebbe avere la seat phrase divisa in due e salvata in quattro posti differenti due con la prima parte e due con la seconda e possibilmente in cassaforte cioè in un posto dove non sia accessibile secondo me questa è la cosa migliore mi raccomando mai conservare in nessun modo e per nessun motivo la seat phrase o le chiavi private online ok mai possibilmente non mettetela nemmeno non tenetela almeno su un computer che è collegato ad internet quindi se ce l'avete su un computer salvato che quel computer non sia collegato ad internet e non si colleghi mai a internet perché se ce l'avete salvato su un computer collegato a internet un hacker che riesce a creare il computer vi becca la seat phrase e ripeto il concetto forse il modo migliore per conservarla e mai conservarla vai conservare tutte le dodici parole insieme il 6 e 6 in modo che se per caso ve ne beccano 6 non siano in grado di recuperare le altre poi ovviamente molto dipende da quanto avete cioè se si è sul ruolo e ci avete mille euro se mi fregano la seat i sit mi fregano mille euro che quindi uno può dire ma si non vado a inventarmi tante cose altrimenti perché comunque anche se avete la ruola la ruola tal avete il sit del sit è più importante la ruola nel senso che se la ruola lo perdete c'è il c'è il pin e se mettono tre volte il pin e si blocca ma se perdete la seat phrase o meglio se mi fregano la seat phrase mi fregano tutto ok secondo te è corretto dire che bitcoin ha delle volatilità sempre minori o sostieni che il 2021 sia stata una buona soffocata e che bitcoin potrebbe stupire di nuovo tutti secondo me è corretto dire che la volatilità è sempre minore io però sono dell'idea che la burla nel 2021 sia stata soffocata ma non di molto io non credo che nel 2021 il prezzo di bitcoin potesse veramente salire a 200.000 dollari secondo me se non erano 70.000 sarebbero stati 100.000 ok 110.000 cioè è stata soffocata secondo me ma non di tantissimo però la volatilità è sempre minore quest'anno nel 2023 se non ricordo male si è verificato il più lungo periodo di tutta la storia di bitcoin a bassissima volatilità o meglio la volatilità mensile più bassa di tutta la storia perché il motivo è molto semplice più è grande la capitalizzazione di mercato di bitcoin più servono capitali per muoverla ok muovere la capitalizzazione significa muovere il prezzo se servono più capitali significa che si muoverà meno molto banalmente più cresce la capitalizzazione di mercato di bitcoin più inevitabilmente si ridurrà la sua volatilità tant'è che chi fa speculazione sul breve termine molto spesso su bitcoin gli interessa poco perché c'è troppa poca volatilità bitcoin ha senso per chi fa holding sul lungo periodo ok o comunque medio o lungo periodo per chi ha bisogno di un certo tipo di sicurezza in più rispetto ad altre cripto valute però chi cerca proprio la volatilità magari non la trova subito la va la va a cercare altro ok altra domanda se il mio wallet non ha più memoria non riesco ad aggiornare le app il firmware oppure il software potrei non riuscire più a spostare le mie cripto e può capitare in particolare ci sono io l'ho visto accadere ci sono dei wallet che se non si riescono ad aggiornare c'è il software o anche il firmware pro soprattutto sul software ci siano difficoltà il motivo è un po complicato nel senso che a volte quando aggiornano il software aggiornano anche il modo con cui si connetta i nodi perché il punto è che gli wallet che usiamo noi non sono nodi ok quindi devono appoggiarsi a dei nodi esterni spesso quando viene aggiornato il software vengono aggiornati anche i nodi quindi se tu non aggiorni il software il software vecchio non riesci più a collegarti ai nodi aggiornati questo capita quindi bisogna tenerlo aggiornato no mi raccomando aggiornate il software dei vostri wallet perché se non lo fate poi potreste perdere la possibilità di di spostare le cripto però se avete il seed nessun problema perché mal che vada installate un wallet nuovo gli mettete il seed il wallet nuovo al software aggiornato e il problema lo risolvete certo se avete hardware wallet non è una grande idea quello di doverne comprare uno nuovo ok perché costa però comunque sappiate anche che esistono dei software wallet che sono compatibili con gli hardware wallet con i seed degli hardware wallet quindi insomma sono cose magari che richiedono un minimo di attenzione ma si può fare poi se volete se doveste avere problemi di questo tipo sapete sappiate che ci sono dei tecnici io li conosco chiedetemi vi dico chi sono che sono in grado di aiutarvi in tutto il percorso ok e senza nemmeno dovrebbe mai chiedere il seed eccetera aiutarvi proprio ad eseguire queste operazioni filo per segno sono professionisti estremamente in gamba quindi a volte capita che ci si debba rivolgere dai professionisti in quel caso sceglietevi di bene e non dategli il seed o le chiavi provate nemmeno a loro che vi fate fare la consulenza le operazioni le fate voi vi fate dire semplicemente come si fa e se avete bisogno chiedete a me perché io vi so dire chi sono cosa ne pensi di tether sarà il prossimo il milio della sec io non credo che tether finirà nel milio della sec perché sicuramente non emette security quindi non c'è problema anzi ultimamente addirittura collabora con l'autorità da anni collabora con l'autorità per cercare di fermare il riciclaggio di bloccare i fondi rubati eccetera binance ha avuto problemi con la sec per questione di riciclaggio perché perché non non faceva molta attenzione non applicava tutte le normative in modo ristretto quindi c'erano degli soggetti che non avrebbero dovuto poter fare quelle operazioni che invece diciamo che sono sfuggiti al controllo di binance e quindi hanno potuto fare delle operazioni indisturbate con tether sembra che questo non accada o comunque non accada più e quindi io vedo un po difficile attaccare tether in questo momento cioè può essere attaccata a mio parere solo per quanto riguarda le riserve ma le riserve sembra che ci siano cioè ci sono degli audit poi per carità uno può mettere in discussione il fatto che chi sta facendo gli audit per tether non sia proprio una grande società però da questo punto di vista si stanno attrezzando gli fanno sempre di più io in questo momento vedo difficilmente attaccabile tether ricordate tether non è un exchange quindi non c'entra niente con binance non c'entra niente con ftx ma proprio niente di niente e io non vedo proprio come la sec che possa attaccare tether tether potrebbe magari avere qualche altro problema ma non non con la sec e poi comunque sta davvero collaborando tantissimo con le autorità è in continuazione riesce a sequestrare degli usdt su richiesta delle autorità sta collaborando moltissimo quindi io personalmente in questo momento vedo abbastanza bene tether ok a c'è chi mi dice che nel 2021 ci fu il dietro di retro front di tesla sì però attenzione questo è vero che però non è che eh il dietro front di tesla ha fatto venire a mancare dei capitali ok ha fatto scendere il prezzo poi risalito eh il motivo per cui sono mancati i capitali è perché la cina li ha proibiti ok poi qualche cinese ha continuato a fare trading cripto usando eh delle direzioni stranieri ma proprio rischio e pericolo sono proprio venuti a mancare dei capitali ok non è solo una questione di leggera perdita di 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 prezzo e poi recupero e poi recupero c'è stato ok andiamo avanti una chiavetta criptata con partizioni invisibili da nascondere in casa un incendio potrebbe succedere meglio una cassaforte in banca perché un bel gruzzoletto e c'è il grosso problema degli incendi è un problema serio perché comunque io vi dicevo ok conservate pure il seed su carta l'importante che sia in cassaforte se però c'è un incendio magari brucia lo stesso ok o se magari che ne so c'è un impianto di 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 antincendio che bagna e entra l'acqua dentro la cassaforte quindi c'è un problema serio ok quindi fate molta attenzione io credo che gli incendi siano uno dei problemi principali quando si tratta di custodire i seed e anche le chiavette poi le chiavette se per caso c'è un incendio finiscono malissimo ok se non sbaglio c'è anche il problema forse una chiavetta può anche essere la memoria di una chiavetta può anche essere smagnetizzata quindi ci sono dei dei problemi seri non è così semplice da risolvere la questione che riguarda la custodia in sicurezza del seed ovvio che una cassaforte in banca dovrebbe essere dovrebbe essere più sicura però magari io non ci metterei tutte le 12 parole del seed credi sia ancora possibile un ritracciamento serio prima che l'etf di black rock venga autorizzato allora un ritracciamento serio probabilmente no nel senso che l'etf di black rock dovrebbe essere approvato tra un mese massimo un mese e mezzo ma nemmeno un mese e mezzo massimo al 10 di gennaio difficile un ritracciamento proprio serio 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 prima però potrebbe iniziare un ritracciamento magari a dicembre e poi continuare ancora dopo l'approvazione delle tf perché fino ad aprile c'è c'è spazio però con ritracciamento serio bisogna dipende dipende anche da cosa intendiamo cioè a mio parere una discesa 27 mila dollari sarebbe a tutti gli effetti un ritracciamento serio ma non sarebbe nulla di anomalo cioè ci sta perfettamente un ritorno a 27 mila dollari non è nulla di che però sarebbe un ritracciamento serissimo dallo stato attuale perché sarebbe un meno 30 per cento ok io non credo nelle salite lunghe inarrestabile bitcoin in genere ci ha sempre abituato a fare balzi in alto balzi in basso balzi in alto balzi in basso difficilmente fa una lunga risalita prendete il 2023 2023 non ha fatto una lunga risalita ha fatto una prima salita poi una discesa poi la prima discesa a maggio col premio a marzo col premio delle banche poi una seconda salita ad aprile una seconda discesa a giugno poi una terza salita ad agosto una discesina a settembre e poi una quarta salita quindi no io non credo che ci sia una lunga inarrestabile lenta salita credo che invece ci sia comunque un sali e scende ho fatto delle analisi con tanto di excel delle criptovalute migliori del 2017 spesso si dice se guardi quelle vedrai che la top 20 è tutta diversa ti devo dare ragione cioè nella top 20 le uniche rimaste sono bitcoin ethereum e ripple le altre sono sparite nel 2017 c'era andava fortissimo litecoin eh cosa andava andava forte ios eh che era nata proprio mi sembra nel 2017 eh poi andava forte eh bitcoin cash e adesso sono tutte andava forte eh stella sono tutte scese ben sotto adesso abbiamo roba molto nuova come solana roba relativamente nuova come eh polkadot roba nuova come matic eccetera quindi sì eh scusate sì eh in realtà c'è anche binance coin però binance coin nacque proprio nel 2018 quindi nel 2017 praticamente nemmeno c'era c'era nel 2018 ma non era tra tra le prime in questo momento a mio parere le quattro che potrebbero resistere nel tempo sono per l'appunto bitcoin ethereum e poi forse binance coin e ripple con binance coin forse un po' più di ripple perché binance comunque rimane una potenza ok c'è la possibilità di ritornare a 25 mila dollari io non la escluderei forse più 27 mila dollari perché il eh la cifra attorno alla quale l'ha lateralizzato per buona parte del 2023 è 27 mila dollari quindi 27 mila dollari è un numero forte che è una cifra forte un livello forte però potrebbe anche tornare a 25 mila eh diciamo che non è affatto da escludere un ritorno sotto i 30 mila dollari se poi sotto 30 mila dollari significa 28 mila 27 25 non ve lo so dire però potrebbe anche essere soprattutto se vera la prima ipotesi che vi dicevo prima quella del dell'aumento di fine anno solo per ragioni fiscali in questo caso magari a gennaio o già a dicembre potrebbe iniziare a scendere potrebbe scendere sotto i 30 mila quindi sì secondo me guardate che se andasse se tornasse a 25 mila non ci sarebbe nulla di anomalo perché bitcoin è così ok certo non sarebbe una bella cosa certo dovrebbe fermarsi lì perché se scende sotto i 25 allora abbiamo qualche problema però se dovesse capitare io non mi preoccuperei più di tanto eh andiamo avanti quindi eh ok ok 10 gennaio arc sì la scadenza il primo etf crypto che scade eh per l'approvazione della sec e quello di arc eh e scade per l'appunto 10 gennaio quindi dovremmo avere una risposta anche perché sembra difficile che la sec possa bocciare l'etf di di arc quindi dovrebbe ehm tuoi progetti per il futuro focus su youtube no in realtà io in questo momento mi sto congenerando molto su x vi spiego anche perché non non lo nascondo proprio per quello che si diceva prima il prossimo anno su x dovrebbero essere aggiunti i servizi finanziari i servizi trading di trading quindi sarà un sacco di gente soprattutto negli stati uniti per carità che andrà lì cioè che userà x come app di riferimento per quanto riguarda le questioni finanziarie poi magari la userà anche per fare trading forse no comunque eh la userà magari per pagare per avere un wallet eccetera e quindi le le mie notizie lì potrebbero essere molto interessanti molto più interessanti che non su youtube intendo come portata del del pubblico io in questo momento ho eh 50.000 follower su youtube poco meno e eh quasi 34.000 su x quindi ne ho molti di più su youtube eh però dovete sapere che io sono eh e sono da da vent'anni un blogger eh e non un vlogger cioè uno che scrive non uno che fa video quindi faccio video perché so che vi piacciono eccetera però in realtà fondamentalmente scrivo e quindi mi va meglio x perché scrivo su x adesso che x sta andando alla grande mi sto concentrando soprattutto lì però ovviamente andrò avanti su youtube perché eh i video piacciono e quindi continuo a farlo che mi dice di year finance io sono un po' preoccupato vi dico una cosa io sono sempre stato preoccupato da year finance perché aveva fatto un botto troppo clamoroso troppo esagerato mi sembra nel nel 2020 ad agosto 2020 luglio ad agosto 2020 eh io già da lì ho storto il naso e ultimamente hanno avuto problemi seri da quello che ho capito e non si è ancora capito bene se questi problemi seri siano dovuti al fatto che chi c'ha le mani sopra year finance stia facendo porcate oppure no oppure se sono solo problemi tecnici io spero che siano solo problemi tecnici perché altrimenti è un progetto che è destinato a all'abisso eh io sono un po' vi invito a fare molta molta cautela su year finance perché è un progetto che fin dall'inizio qualche cosa di strano lo ha avuto io ho visto un pump di quelli classici che vengono proprio forzati e poi dopo infatti per carità poi nel 2021 mi sembra che forse recupero anche ma comunque fin dall'inizio non mi è piaciuto come come progetto eh poi se non sbaglio adesso ci sono anche delle alternative quindi ehm ok andiamo avanti eh i xrp potrebbe toccare i 50 dollari la vedo dura eh la vedo molto molto dura eh xrp nel 2021 non è nemmeno riuscito a tornare sui massimi del 2018 io mi ricordo chiaramente quel boom del 2018 che in realtà eh inizio a dicembre 2017 andava avanti fino a gennaio 2018 eh se non ricordo male arrivò a tre dollari e mezzo o tre dollari e otto qualcosa del genere 50 dollari e in questo momento è fuori dalla sua portata o meglio per arrivare a 50 dollari il dollaro americano dovrebbe avere una fortissima inflazione quindi magari che sono tra cent'anni ok o magari che sono tra 50 anni sul breve periodo la vedo davvero difficile eh se mai la SEC il entro i 10 gennaio non approvasse l'ETF potremmo vedere 25.000 dollari sì concordo assolutamente eh questa mi sembrerebbe un'ipotesi assolutamente prossima ehm conosci il progetto Boson Protocol no mi spiace purtroppo molti progetti minori non non li conosco quando potrebbe tornare se mai ci tornerà a 65.000 dollari questa è una bellissima domanda perché adesso più che 65.000 spostiamo l'attenzione sui 70.000 siamo lì ok perché dico 70.000 perché è il massimo storico il massimo storico è 69.000 però più o meno 69.070 alzato per far cifra tonda 65.000 era il massimo storico precedente quello di aprile 2021 quindi partiamo dei 70.000 dollari il punto è che eh per potersi innescare una nuova grande bull run serve un recupero dei 70.000 dollari se il prezzo di bitcoin non sale 70.000 dollari non si innesca una nuova grande bull run ma vi dirò di più se il prezzo di bitcoin dovesse tornare a 70.000 dollari allora molto probabilmente si innescherà una nuova grande bull run perché a quel punto molte persone come al solito andranno a comprare bitcoin perché è sui massimi perché purtroppo molte persone ragionano così cioè molte persone comprano gli asset dopo che il loro prezzo è esploso pensando che andrà avanti così mentre invece assolutamente poi il contrario però in genere quando capita in passato è sempre stato così magari non non è detto che se arriva a 70.000 va avanti sicuramente subito con una bull run che potrebbe andare a 70.000 poi tornare giù poi riprendere però è molto probabile che se arriva a 70.000 dollari ci sarà una nuova bull run quindi quando è che potrebbe tornare allora io direi che possiamo dire abbastanza con buona certezza che non ci arriva entro fine 2023 quindi in teoria non dovrebbe innescarsi una grande bull run a fine 2023 ok però allora nel caso in cui il prezzo di bitcoin veramente salisse sui 40 40 45 o addirittura 50.000 dollari in poco prima dell'albin quindi aprile 2024 e allora magari i 70.000 potrebbero anche arrivare nel 2024 ricordatevi che non c'è nessuna certezza ok queste sono solo ipotesi io potrei anche dirvi che il prezzo scende ok non vi sto dicendo che il prezzo sale però quello che vi sto dicendo è che l'ipotesi che circola di più è che se proprio deve tornare a 70.000 dollari dovrebbe tornarci nel 2024 se non ci torna nel 2024 potrebbe anche non riuscire a tornarci più perché eh l'albin dovrebbe ridurre l'offerta quindi dopo l'albin prezzo poi a un certo punto dovrebbe iniziare a salire l'albin è ad aprile e se il 2024 sarà un anno positivo alla fine 2024 tornerà ad esserci il ragionamento fiscale c'è gente che non vende per non pagare per pagare le tasse un anno dopo c'è che aspetta vendere l'anno dopo per pagare le tasse un anno dopo e quindi dovrebbe se arriverà dovrebbe arrivare prima della fine del 2024 eh però non so dirvi quando anche perché c'è la sempre la possibilità di un'anomalia nel 2024 proprio per quello che dicevo prima cioè per il fatto che se tutti si aspettano una grande bullra nel 2025 potrebbe non arrivare e magari potrebbe arrivare al 2024 quindi l'anno chiave per rispondere a questa domanda è il 2024 però non adesso e non è inizio 2024 ok quale saranno secondo te le narrative dominante dominanti per il prossimo mercato rialzista o devo devo mettere che non so rispondere questa è una domanda che mi avete già fatto altre volte io ci ho pensato ma non riesco a trovarle non sono ancora in grado di trovarle in questo momento quella che sembra più papabile ma io ho dei dubbi è la tokenizzazione ma la tokenizzazione intendo tokenizzazione di asset reali ok ma anche solo di azioni è un problema è molto difficile da fare quindi io non so se la tokenizzazione possa davvero eh essere così forte così potente eh su così grande scala da diventare protagonista della prossima bull run o dei dubbi e però non riesco a trovarne delle altre eh le volte scorse era più facile vabbè nel 2017 c'erano le ic o nel 2020 c'era la defaic poi nel 2021 c'erano gli nft ma stavolta faccio davvero davvero fatica a trovarlo eh o staremo a vedere perché in effetti serve servirebbe e potrebbe sembrerebbe che debba essere la tokenizzazione ma è troppo difficile quindi non lo so vedremo eh dicono che eh dopo l'alving nel duemila e ventotto bitcoin toccherà il milione di dollari eh potrebbe anche essere in effetti circola questa ipotesi io non ve lo so dire eh è un po' alto un prezzo di un milione di dollari duemila e ventotto è un pochettino alto cioè servirebbe davvero un calo del dollaro un forte calo del dollaro per arrivarci eh direi possibile ma non so quanto probabile però c'è poi un alvia anche del duemila e ventadue vedremo ehm e vedi ci sono queste ipotesi eh ad esempio così utilizzando rainbow chart eh non so se voi sapete che cos'è il bitcoin rainbow chart vediamo se riesco a farvelo eh vedere dovrebbe essere questo qua ok ve lo ve lo mostro così almeno siamo sicuri che voi che tutti sappiate di cosa sto parlando questo è il rainbow chart bitcoin rainbow chart e secondo questa proiezione vedete se il prezzo di bitcoin dovesse andare in zona rossa nel duemila e venticinque questa zona rossa dovrebbe essere qua in questa in quest'area ok eh se invece non dovesse arrivare in zona rossa dovesse arrivare in zona arancione dovrebbe essere qua quindi non è assolutamente un caso che venga detto che l'ipotesi è quella di 300.000 euro nel duemila e venticinque però io non so e quanto questo rainbow chart ci consente veramente di fare delle delle previsioni possiamo fare delle proiezioni però le proiezioni possono essere giuste possono arrivarsi giusti o sbagliate ehm 300.000 euro nel duemila e venticinque è in effetti un po' tantino però io ho già visto persone che ipotizzano duecentocinquantamila quindi 300.000 non è tanto in là cioè ci sta come ipotesi ok soprattutto se partiamo dal presupposto che il vero prezzo massimo del duemila e ventuno avrebbe dovuto essere centomila ok perché a quel punto da centomila a trecentomila è un per tre che ci potrebbe anche stare e vedremo non ve lo so dire eh ultime due domande perché abbiamo già sforato l'ora c'è un motivo per cui bitcoin ci mette un po' dopo l'albing a salire spesso i miner hanno le riserve quindi l'effetto albi si fa sentire dopo eh sì è vero eh nel senso che molto spesso i miner tengono i quanti più bitcoin possibile a riserva e quindi poi eh quando c'è l'albing guadagnano di meno devono vendere di più e poi indivendono e e quindi se non finiscono le riserve magari il l'offerta non si riduce di molto e quindi sì secondo me questa è un'osservazione assolutamente plausibile tant'è che ad esempio nel duemila e venti eh l'albing ci fu eh a maggio e il prezzo iniziò a salire in modo significativo tra ottobre e novembre nel duemila e sedici l'albing ci fu a luglio e se non ricordo male il prezzo iniziò a salire significativamente a inizio del mila e dici sette addirittura ok quindi io non mi aspetto che l'albing di aprile faccia salire il prezzo già ad aprile o a maggio servirà un po' di tempo non so dirvi quando e poi c'è sempre la questione fiscale quindi alla fine il prezzo massimo nel duemila e ventiquattro potrebbe arrivare a fine anno ultima domanda con gli effetti il suo con gli etf su ethereum il prezzo può arrivare a ventimila dollari il prezzo di ethereum ok allora circola questa ipotesi ethereum a ventimila dollari io l'ho già letta diverse volte quindi stiamo parlando scusate vado solo un attimo controllare quanto è stato il massimo di ethereum perché non me lo ricordo 4.500 mi sembra qualcosa del genere 4.900 scusatemi quindi da 4.900 dollari di massimo dal duemila e ventuno a ventimila dollari nel che ne so duemila e venticinque la cosa sembra plausibile è un altino io allora io vi dico già le visto questa previsione fatta più volte io personalmente lo ritengo un po altino però ci potrebbe anche stare certo per farlo e tiro ma una capitalizzazione di mercato ancora molto più bassa di quella di bitcoin però è alta è già abbastanza alto quindi servono tanti capitali gli etf avranno effetto soprattutto su bitcoin quindi io trovo questa ipotesi decisamente ottimistica ok quindi ci sta ma forse per me per quanto mi riguarda è un po troppo ottimistica direi che abbiamo finito qua noi come al solito ci vediamo ovviamente giovedì prossimo ricordatevi di mandarmi prima le domande via email così almeno vi rispondo subito appena inizio alla diretta l'indirizzo lo trovate in descrizione un saluto a tutti ciao